Riconfermato a Cannero Riviera Federico Carmine al secondo mandato, quindi un'amministrazione all'insegna della continuità, su cosa si continuerà a lavorare nell'imminenza e invece quali sono poi i progetti a più lungo periodo? Abbiamo una serie di interventi di cui le progettazioni sono già pronte e che andranno portati avanti già all'interno del 2019 e poi sicuramente l'argomento della sicurezza della Statale 34 che coinvolge tutti i comuni dell'Unione e anche Verbagna è sicuramente una delle priorità maggiori, riattendiamo di sapere se potrà arrivare lo stato di emergenza o meno, speriamo in questo riesame e poi ci si dovranno muovere il più in fretta possibile per cominciare le opere. Per quello che riguarda invece la programmazione a lungo termine abbiamo inserito il nostro programma elettorale soprattutto due grandi obiettivi che sono lavorare sulla possibilità di dare incentivi e di favorire l'insediamento di nuovi residenti, il nostro paese ne ha molto bisogno e allo stesso tempo anche cercare di favorire l'apertura di nuove attività commerciali che abbiano un respiro annuale per ridare vita al paese. Come base abbiamo effettuato uno studio nell'ultima parte del nostro mandato insieme alla Camera di Commercio che ha fatto una relazione molto approfondita del nostro territorio per cercare di capire come intercettare determinati bisogni e adesso siamo alla fase in cui sempre insieme a loro decideremo in che modo concreto mettere in atto questi passaggi. Si guarda però anche alle frazioni montane? Sì assolutamente, anche questa è una diretta conseguenza ma riguarda proprio l'opportunità di riappropriarci in toto del nostro territorio, di valorizzarlo. Chiaramente per molti anni è stato valorizzato e si è investito per tutta la parte della fascia lago. Per quanto riguarda le nostre montagne invece le nostre frazioni oltre chiaramente a interventi di manutenzione, investimenti un po' più strutturali per migliorare la vita di chi abita nelle nostre frazioni abbiamo bisogno di fare una programmazione pluriennale seria per cercare di sfruttare e recuperare la montagna sia per attività collegate che anche a scopo di un turismo, io lo chiamo sano, rispettoso dell'ambiente. Il turismo vuole nuove esperienze, vuole poter muoversi e quindi faccio sempre questo esempio, negli ultimi due anni è capitato molto spesso di vedere una percentuale maggiore di persone a spasso per i nostri sentieri piuttosto che in spiaggia, quindi questo è un segnale importante che dobbiamo cogliere.